Arezzo celebra il secentenario della nascita del maestro della prospettiva, Piero della Francesca. L'idea non poteva che essere partorita dalla mente di Vittorio Sgarbi, ormai affezionato alla città di Arezzo. È stato infatti il noto critico d'arte a proporre l'organizzazione di un'iniziativa che comprenda tutte le città del centro Italia, che conservano le più importanti opere di Piero della Francesca. Non solo ad Arezzo, ma anche a Monterchia, a Sansepolcro e ad Urbino. Questa è l'idea che ha partorito in poche ore Vittorio Sgarbi, che è venuto a fare una passeggiata sulle impalcature che si sono rese necessarie per la ripulitura degli affreschi prima che venissero smontate. Siccome si era davanti a Piero della Francesca, lui ha cominciato a far telefonate e tutto sommato ha creato un evento che dovrebbe concretizzarsi ora, in primavera, e quindi una grande mostra ad Arezzo, Sansepolcro, Monterchi e Urbino di contemporanei in assonanza con Piero della Francesca. Ad Arezzo, uso il condizionale, sarebbe destinato un congruo numero, si parla di una quindicina di opere di Morandi, grande pittore del Novecento italiano, che per assonanza cromatica con Piero della Francesca è una delle migliori assonanze possibili oggi, che verrà esposto alla Galleria d'Arte Contemporanea. Il condizionale è dovuto al fatto che domenica incontreremo il collezionista che dovrebbe dare la disponibilità di queste opere a venire ad Arezzo. Grazie.